a controllare nel retro bottega scusate che vi lascio solo torno subito ci sono rotti i piatti io io l'ho lasciata che mi fai la pira di piatti lì e torno che ci sono rotti i piatti che è successo e sono andato a guardare sul registro se c'era una bottiglia di champagne che mi ha chiesto lei che chi è scusa che non capisco che chi sei un fenomeno chi è un fenomeno si è rotta tutto com'è andata che ha rotto la pira dei piatti scusi io non forse un movimento sbadato no si chiama il vigile sì ma lo chiamo io perché la signora è la signora stava venendo l'ho mandata a cercare ma io vede se la signora viene trova la pira dei piatti io sono in prova mi mi licenza capisce lei mi aiuta non si preoccupa e con come come ha fatto adesso tra le sub la tributaria perché sono la persona perché lei mi vede in questo sistema si quale qua qua perché cosa c'entra la tributaria con i piatti quella che c'è lei è andata lì dentro chi è uscito da lì dentro è venuto un sovanotte che ha fatto o zimbaglia non so di che cosa non so lei ha chiamato la signora dove è la signora viene signora non so con un cuscino in mano dove faceva la zimbaglia un cuscino rossa qua la presa si è messa a fare un zingaggio dentro allo specchio non so come io ci devo credere che viene uno con lo zimbaglia e chi non ci crede perché non ci vede informazioni di me vuole che ce li paghi io gliele paga allora lei andrà a finire male no io non voglio che mi paga basta che mi dice chi è stato io ma io non lo conosco non lo conosco io lo posso pagare io non lo conosco però lei ci andrà a finire male ma lei mi ha detto vicino a me che andava a chiamare la signora sono uscito e ho mandato uno non si bella che è andata qui dentro qua ma non l'ha visto in viso non capisci una persona non si vede in viso ieri che è quello che è che non è sua guardate questa è andata una persona qua dentro che ha fatto pinza di un magro di tecolorado ma lì枕 in viso stavo qua rispetto a lui che è uscito da il tempo ma il vese ha guardato questa persona ma non ho saputo che vi ho visto le piattere baffate a terra scusate io stavo dentro lì mi vedete quello che è rilassati guardate che persona che è uscita a me e noi sta dicendo questo è conosciuto e facciamo notte vestiti da un cuscino qua sotto il cuore rosso e mi so così che bello il signore ha chiamato al momento la signora fuori la signora fuori non è venuto ci attendete un minuto io vado qua dentro ha sentito il rumore è uscito fuori scusate scusate io però sono persone intelligenti ma io non ho me li faccio intervenire ma lei mi deve scusare vado a finire fino in fondo i piatti o li pago ma io li pago io lei non si deve permettere perché non sono usciti di cervello io io vi vesto d'oro io vi vesto d'oro ma io vi credo io c'ho un po di cervello ma chi mi sta chiamando che ero la vecchia no guardia sono della polizia tributaria sapete che significa tributaria quelli che fanno faccio scendere subito da qua un colpo di telefono sì ma ti e ma avete ragione io non vi dico non mi dovete accusare ma io non voglio le 40 bottiglie la signora dov'è sì adesso viene ma vado a chiamare se lei mi dice questi piatti l'ho rotto io li pago io questi piatti non ho detto questo guarda che c'è un appuntamento alle 6 e mezza a posto io non ho detto questo io non ho detto che lei si mette si mette scusate mi fa parlare mi fa parlare ma lei si vede in faccia che io voglio fare il piatto di ma ci diciamo non voglio però non voglio fare con le cose che adesso ne ha rotto altri due non avevi pago i piatti però si vado i piatti viso a me come pagate avete capito scusate io vi si mette momento nei panni miei perché lei si si arriva bene e tiene pure ragione la signora dov'è